Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme cosa succederà nelle prossime anticipazioni di Terra Amara. Vediamo insieme la puntata che andrà in onda a venerdì 8 settembre. Saniyai nota Sevda mentre si occupa delle piante nella serra di Ankar. Si agita e, senza esitare, entra nella serra, intimando a Sevda di andarsene. Le spiega che quel luogo è riservato alla sua signora e nessuno può entrare senza il suo permesso. Sevda, indignata, le chiede come osa rivolgerle la parola in quel modo, esortandola a fare attenzione alle sue parole. Saniyai risponde freddamente, sottolineando che non può mai prendere il posto della grande signora. Sevda ribatte, chiedendole con sfida a chi sia lei per parlarle così. Saniyai, con tono superiore, le comunica di essere alla villa da 15 anni e le ordina di uscire dalla serra. Sevda, furiosa, la mette in guardia sul fatto che Demir la sostiene e Adnan la ha amata per vent'anni. Le dice che rimarrà lì per sempre e la caccia dalla serra. Saniyai, costretta ad andarsene, lascia il posto visibilmente arrabbiata con Demir per aver portato l'amante di suo padre alla villa. La donna che ha tanto fatto soffrire sua madre. Prima di continuare, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace al video, ed iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Grazie a chi lo farà. Arrivata a casa, vede Gaffur e lo aggredisce verbalmente, lamentandosi di doverlo inseguire mentre lui, invece di lavorare, dorme sotto gli alberi. Saniyai, poi, entra in casa e, piangendo, si chiede perché Zuleyha abbia portato Sevda alla villa. Nel frattempo, al calare della sera, Cetin viene raggiunto da Ilmaz in azienda, il quale gli comunica che Zuleyha ha bisogno di parlargli di qualcosa di importante. Ilmaz si reca subito alla villa e si incontra con Zuleyha nella sua residenza privata. Zuleyha, appena lo vede, gli fa le congratulazioni per il figlio che aspetta da Mujeygan. Ilmaz, confuso, le chiede spiegazioni, poiché non comprende la situazione. Zuleyha lo rimprovera per aver avuto una relazione con Mujeygan mentre lo interroga sulla sua relazione con Demir. Ilmaz giura di non aver avuto più nulla con Mujeygan, ma Zuleyha non gli crede e se ne va sconvolta. Ilmaz rimane turbato e continua a ripetere che ciò non può essere vero. Una volta tornato a casa, Zuleyha dice a Demir di non sentirsi bene. Sevda lo giustifica, dicendogli che è scossa per le parole di Baze. Demir raggiunge Zuleyha in camera e le chiede di non preoccuparsi per Baze, sottolineando che non è una fonte credibile e probabilmente ha orchestrato l'aggressione da sola. Nel frattempo, Fekeli è con Baze e le chiede se era davvero necessario ciò che ha fatto. Baze risponde che è quasi morta a causa di Zuleyha e che è sicura delle sue accuse. In quel momento, Ilmaz entra furioso e chiede a Mujeygan se ha rivelato a Zuleyha di essere incinta. Lei esita, e lui le chiede perché ha detto quella bugia. Lei gli risponde, pensando che lui sarà felice della notizia dell'arrivo di un nuovo bambino. Lui le chiede di cosa sta parlando, visto che non la tocca da mesi. Lei gli risponde che lui non si ricorda, e Ilmaz, ancora più infuriato, le chiede cosa deve ricordare allora. Mujeygan gli ricorda di quella volta in cui è tornato ubriaco, ma lui ribatte che lo ricorda chiaramente di essere andato a letto da solo nella sua camera. Mujeygan insiste nella sua versione, e lui le urla di non mentire. A quel punto, Mujeygan gli dà il foglio delle analisi che lo provano. Ilmaz freddamente afferma che se è incinta, lui non è il padre del bambino. Offesa. Mujeygan se ne va, seguita da Beis, che rimprovera Ilmaz per le sue accuse. Anche Fekeli lo rimprovera duramente, ma lui ribatte che è sicuro di non essere il padre del bambino. Poi, Fekeli, con un tono più conciliante, cerca di spiegargli che certe cose possono accadere quando si è ubriachi, ma Ilmaz risponde con rabbia e se ne va. Rimasto solo con Fikret, Fekeli gli dice che questa volta Ilmaz ha superato ogni limite. Nonostante la gelosia e l'instabilità di Mujeygan, non è giusto accusarla di tradimento. Mujeygan sta piangendo nella sua camera quando viene raggiunta da Beis, che si dice contenta della notizia. Mujeygan le racconta che ha scoperto la notizia quel giorno, ma che tutto sta andando male. Beis le assicura che quando Ilmaz prenderà in braccio il loro secondo bambino, sarà felice. Tuttavia, Mujeygan soffre e piange per l'accusa che Ilmaz le ha rivolto. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale, per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara.